Cosa sta succedendo a Chima Mobilità Amat? Continuano i bus a prendere fuoco, a incendiarsi Proprio nei giorni scorsi, qualche giorno fa, vedete, a Taranto 2 un altro bus ha preso fuoco Vorrei sapere tanto, e già gliel'ho chiesto in via ufficiale, in via formale da consigliere comunale Mi sono rivolto alla responsabile del servizio manutenzione, all'ingegnere Marianna Ettore Perché voglio capire queste cose che accadono, come mai questi bus prendono fuoco Eppure ve la profumate tanto con i nuovi bus che sono arrivati Quando evidentemente ci sono dei catorci in giro pericolosissimi Perché un bus che prende fuoco è un pericolo pubblico per l'utenza e per la cittadinanza Io ho già ebbi modo di scriverle, ingegner Ettore, ma io non ho avuto risposta Ora pretendo queste risposte Non si può scherzare con la sicurezza pubblica, con l'incolumità pubblica Lo ripeto, un bus che prende fuoco e non è un caso isolato Ma ci sono stati vari casi del genere Non è una cosa normale E poi ancora cosa è successo negli ultimi giorni dell'anno Numerose segnalazioni intorno al giorno 30 e più o meno in quelle giornate lì Di numerosissime corse saltate Con i cittadini fermi alle fermate dei bus come tanti fessi che aspettavano Ma stiamo scherzando? Ma stiamo scherzando? E ripeto, parlate di mobilità sostenibile L'ex assessore alla mobilità sostenibile Mattia Giorno tanto si vantava Ma di cosa? Di cosa ex presidente Gira? Di cosa direttore Piazza? Dei bus che prendono fuoco? Delle corse che sistematicamente, molto sistematicamente in certi periodi saltano? Ripeto, a me non interessa tutte le ragioni Sta di fatto che voi potete accampare Un fatto è sicuro, è innegabile Il cittadino non riceve servizi ed è uno scandalo Anche il cittadino che paga l'abbonamento Per cui bisogna fare chiarezza Pretendo chiarezza su quello che sta succedendo A Chima Mobilità Amat Pretendo chiarezza Dall'amministrazione comunale Ma anche dai vertici, dagli organi tecnici Della società partecipata Grazie a tutti! Grazie a tutti.